Ne abbiamo trovato uno, guardate che bellino Questo è carino ed abbastanza grande Quindi la tv dovrebbe risultare centrata Esatto Allora, quindi Decorate Electronics Prendiamo la nostra bellissima tv E guarda adesso Guarda adesso che bella figura che fa Ora si ragiona Mi lavi i denti, guarda No, è bellissimo Ma che gioco hanno fatto, ragazzi? Prima di tutto faccio un pisolino Guardami, eh È troppo bellino È troppo bellino, non ci credo È fantastico E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph E chi si chiama Roblox E oggi ragazzi siamo su Bloxburg Ovvero, molto più semplicemente The Sims su Roblox Io sto già impazzendo Tienimi perché io sto già impazzendo Ho già visto qualcosina Non vedo l'ora di iniziare Potrebbe essere ufficialmente La mappa più bella di Roblox Lo so che diciamo per tanto Potrebbe battere Trilence Potrebbe battere Brick Bronze Potrebbe battere Dean Park Tycoon Potrebbe davvero battere tutto Perché sembra fatta benissimo E infatti ragazzi costa 25 Robux Quindi non è gratis Per entrare come sempre Bisogna pagare questi 25 Robux Ma quando le mappe sono così belle Secondo me ne vale davvero la pena Guarda, l'avrei pagata anche il doppio Ti dico la verità L'avrei pagata anche il doppio Perché è davvero fantastica Allora, devo partire Scegliendo la mia casa Ma puoi venire a casa mia? Penso proprio di sì, lo sai Lo spero Sinceramente non ho idea Perché altrimenti sarebbe un problema Penso che sia proprio come The Sims Però online Quindi, allora Ok È già tempo di andare a lavoro Andiamo a lavoro? Sì, certo Subito A me hai dato soldi e basta Ma è un lavoro bellissimo Ti posso dare dei soldi O cambiare i permessi Che sono i permessi? Ti posso rendere, diciamo Roommate Conquilino Conquilino Ospite oppure niente Conquilino, vai Oh, bello Solo per un po' Se ti comporti male Potrebbe Allora, io ci tengo a dire Che voglio fare la mia casa Con signor Maialino Mi dispiace Ma quando mi danno la possibilità Di costruire Io sono in prima fila Venga dentro E stia agita, per favore Allora, chiudiamo Comunque la cosa bella È che è già redata No, no, no No, sono diventato più intelligente Complimenti Grazie L'ho preso per sbaglio Io non volevo leggere libri Allora, vieni Sediamoci nel divanetto E chi accende la tv? Aspetta, scusami Allora Vediamo cosa c'è Il telegiornale Io direi C'è sempre Neanchette Comunque Io direi E questo è di cucina Vieni, vieni Guardiamo cucina Un bel programma di cucina Mi sembra Mi sembra dato Quindi ci guardiamo Sta cucinando un pesce Non lo so Perché è un po' piccola Questa tv Non si vede bene Aspetta Aspetta Quando avrai più soldi Ti comprerai la tv più grande Si sta spiegando come pulire un pesce Ok, questo è molto importante Questa qua è la nostra bella cucina Carinissima Potremmo Ah, cioè In casa tua devi pagare due dollari per una mela Ma anche così è di sims Quindi sinceramente è riprodotto alla perfezione Giustamente gli ingredienti li paghi Un piccolo bagno Guarda ci sono I libri Quella gente Così mentre fai certi bisognini Mi sembra giusto avere il libro in bagno Quando non c'erano gli smartphone Ragazzi si faceva così Se lo state chiedendo E poi c'è una bellissima camera da letto Che è davvero bellina A parte questo poster Che Fammi cambiare un attimino Perché Ah no Dovrei inserire un codice No, no Scusa Va benissimo Cosa vuol dire? Non lo so Mi dice Insert decal ID Quindi lasciamo perdere per ora Qua posso dormire ovviamente Accendere la luce e spegnerla Insomma Se notate la differenza dagli altri mappe Con tutto si può interagire È tutto stra interattivo E poi c'è una cosa ancora più bella Allora sei pronto? Sì Allora devi cliccare lì Questo? No l'omino Clicca l'omino Abbiamo i bisogni esattamente come sto The Sims No Famme Divertimento Energia E igiene E poi come vedi c'è l'umore Il lavoro E le abilità Quindi Ok Esattamente The Sims Ho uno di intelligenza perché io ho letto un libro Hai ragione Io non ho ancora fatto Guarda le abilità che ci sono Oh no ma sei matto Sono tantissime Ci sarà da divertirsi Basta che vai su work e fai find the job Ok perfetto Semplice semplice Fine job Vediamo un pochettino Allora Possiamo essere Dei cassieri Oh mamma mia è bellissimo Sono già innamorato di questo gioco Guarda Il pescatore Questo è per capito a Jeff Alla casa nel market Puoi vendere Immagino gelati Ok Magazziniere Mi sembra giusto E pizza Però sembrava E infatti Portapizze Portapizze Oh no Non ci credo No Il parrucchie No allora Allora io ti dico che qua Non abbiamo ancora finito i lavori Ma mi servirà almeno mezz'ora Per decidere quale fare Vai avanti No No Voglio fare il meccanico È fantastico Allora ok Allora Ok Uff Sono molto indeciso Io allora ti dico già la mia indecisione Ok Sono indecisa su venditore di gelati Ok Perché giustamente avrei gelati gratis a vita E ti sembra una cosa E quella è l'importante A cui si può rinunciare Oppure il come si dice Quello che lavora le moto Il meccanico di moto Perché mi piacciono le moto Che ne sono molto indeciso Poi c'è un motorino rosa L'hai visto Sì Con il motorino rosa Mi sta attirando parecchio Allora io sono indecisa tra il pescatore Perché non so perché mi ispira Pescare pesci Fare pizze Perché sapete La mia passione per le pizze Eppure il parrucchiere un po' mi ispira Questo è bello Sembra divertente Facciamo che io faccia il pescatore E tu il meccanico Sì Ok Sì Sì Vai 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 Però se poi non mi piace Vado a vendere i gelati Va bene Start working Allora Sei sicuro di voler scegliere questo Certo Siamo sicurissimi Ma poi suppongo che si potrà anche cambiare Perché se è uguale a The Sims Potrei anche cambiare l'oro Probabilmente ci stanno anche Le promozioni Sembro nato per questo lavoro Ho tutte le spille bellissime No no è fantastico Però la canna viola Oh mamma mia Vabbè Allora Come funziona Fammi provare un attimino il mio lavoro Un secondo Io mi metto qua nella spiaggia Immagino che con cast Allora io ero dato che Che non ci spiegano nulla Quindi devi andare un po' Capito Devi essere intelligente Capito Stanno comunque cercando di capire Se sei portato per il lavoro Credo che Ho preso un pesce Ho preso un pesce No te lo si persa Non ci credo Ho preso un pesciolino verde Troppo bellino Guarda Guarda Era verde Troppo carino Dove li mette poi però Voglio vedere i miei pesci Le mie catture Allora dai Concentrati Guarda Concentrati Hai visto No non li vedo Da qui È troppo lontano Come faccio Non vedi che non vedi i pesci Che prendo Allora aspetta Avvisami Ti ho già pagato Sì Ho pescato due pesci Mi hanno dato 22 dollari Sono diventato un pescatore Sono diventato un pescatore Anche io sì Purtroppo non potevamo partecipare L'uno al lavoro dell'altro Esatto Abbiamo deciso che per ora Faremo gli stessi Così almeno li facciamo vedere In tutto e per tutto Andiamo Esattamente Sono emozionatissima Una volta cambieremo lavoro Cioè piano piano Insomma andremo a provare Tutti i lavori Ce la gestiremo bene Finché poi non sceglieremo Il nostro Per la vita Esatto Vista che sono un esperto Ti spiego come funziona Insegnami Esatto Clicchi cast Ok E poi stai ferma Quando la pallina va giù Clicchi pull Ok È un lavoro molto difficile Ok C'è bisogno di esperienza Ho preso un pesce verde Per imparare È molto carino il pesce Se tu guardi in basso Hai una barrettina Ok Ok E ti dice Se arrivi a 11 Io sono ad esempio A 3 di 11 Se arrivi a 11 Vieni promossa Ah bello E quindi passi al Grado successivo Di questo lavoro Capisci Carini come sono fatti Il mastro pescatore Eh sì Sono molto carini Però come sono fatti Sì Probabilmente poi ti mettono Anche a gestire Tutta la casetta del pescatore Lascia perdere Che se è fatto bene Potremmo andare Proprio con la barca A pescare Eh infatti Attenzione Me ne manca solo una Per essere promosso Dai Adesso si fa sul serio Promozione Questa cosa cambia Eh dai Dai pesciolino Pesciolino Ok Congratulation Bravo Ok e quindi Ok Non è cambiato nulla Devi continuare a pescare Sì Uguale Probabilmente devi aspettare Probabilmente adesso ti pagheranno Di più Esatto E magari poi avrai una promozione Di lavoro Giustamente Adesso per essere promosso di nuovo Devo pescarne 14 Quindi piano piano diventa Sempre più lungo Però per ogni pesce Che pesco Vengo pagato di più Quindi comunque Ci portiamo a soldi Eh mica male A casa un bel gruzzoletto Mi hanno pagato 193 Bravo Grazie Adesso 2008 Allora visto che sei pieno di soldi Sai cosa facciamo Sì Mi offri un giro Nella ruota panoramica Già subito Sì Allora voglio quella rosa Aspetta E allora me ne vado in quella dopo Uffa aspetta Voglio quella rosa Dai Andiamo Perché ho accettato Guarda che bel panorama Guarda È un po' strano Come panorama Guarda quando rendiamo Super in alto Aiuto Siamo bellissimi Guardaci Ma a me verrebbe il panico Dare un cazzotto Alla persona a fianco Che sei tu E mi lancerei Ma nel caso c'è l'acqua Ti puoi anche lanciare Guarda Insomma Forse siamo talmente in alto Che manco quello Guarda che bello Ma no ma allunghisce Arrivederci Oh no Mi ha abbandonato Dai Andiamo a mangiarci Una bella pizza Ok È il pizza planet Di tuoi stori Non mi ricordo nulla Di tuoi stori Eh sì Vabbè Io li ho visti Due miliardi di volte È il pizza planet Di tuoi stori Buongiorno Vorrei ordinare del cibo Una pizza Vedi ordina Allora Pizza slice Ma allora C'è hanno dato Ok Io una fettina del genere Me la mangiò a colazione Eh vabbè Potevi ordinare solo Vieni Sediamoci La mangio in piedi Gnam Buona Mi ha riempito subito Uh bella Però guarda Che la pizza è meglio delle mele Guarda loro Allora aspetta Secondo me era il commesso Che non capiva nulla Vediamo tu Io provo con questa bella signorina No Mi sono preso una bibita Una coca cola Per digerire La pizza Questo qua è un negozio Dove compri le forniture Quindi puoi comprare delle cose Le decorazioni per la casa Oh mamma mia Che bello Poi Il night club Addirittura Per andare a festeggiare di brutto E lì La biblioteca Mi sto girando in tondo È strapieno di negozi Strapieno È meraviglioso Allora guarda quanto sono forte Allora voglio qualche allenamento bello Beh anch'io No questo è il mio Sono diventata subito atletico Guardami Ho po Ho mia vista Tanti pugni Non mi si può guardare Sei fortissima Guarda come gli decoli Mi ci metto anche io Ho chiesto diventata subito atletica Cioè l'hai proprio fatto un punto Perché il primo punto È facile facile Fammi vedere un pochettino Sì vedete Adesso abbiamo qua la barra in basso E atleti che sta salendo a due Quindi stiamo diventando sempre più atletici È fantastico Sono un mostro Che t'amarra Finalmente a casa Allora prima di tutto Faccio un pisolino Guardami eh È troppo bellino È troppo bellino Non ci credo È fantastico Come sono comodo nel mio letto Per riposo Dopo la mangiata e la palestra Perché stanchezza Non finire E adesso c'è bisogno di farsi una bella doccia Non hai la doccia Non ho la doccia Vabbè lavati le mani Mi lavo in modo intenso No mi lavo i denti Guarda No è bellissimo Ma che gioco hanno fatto ragazzi Cioè È fantastica Meraviglioso È troppo bello Troppo 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 Allora i denti me li sono lavati bene Capitan già a effetto Che non gli piace lavarseli Quindi non se li lava Mi lavo un pochettino Anche le mani Sì che ce li ha Però sono tutti cariati Perché non si lava mai i denti No ha solo il becco È un pappagallo Ce li hanno i denti no? No Dici? Cioè Gli uccellini non hanno niente un dente? Certo che non hanno i denti Hanno il becco Mangiano col becco E i pesci ce li hanno i denti Sei vergognoso Cioè tu non sai Che Capitan Jeff Non ha i denti Non gli ho mai controllato la bocca Scusa Se permetti Ma se sto sempre parlando Non glieli vedi i denti? Allora Fammi guardare un po' di tv Mi uccidio ogni tanto Ho bisogno di divertirmi Guarda come la guarda in modo intenso Vedi Muova anche la testa L'hai notata Che guarda proprio verso la tv Ah interessante Il tg Mi informo sulle ultime notizie Bellissimo Bello Allora per il bagno non c'è nulla Quindi non ci potremo mai fare una doccia in questo gioco Però visto che abbiamo una tv Bruttina Ormai è antica È antica Ci compriamo una signora tv Sono d'accordo Sono d'accordo Allora no Aspetta Quanto pare prima di tutto devo vendere questa Esatto Vendila È bruttissima È bruttissima Non ci sta Non ci sta Non ci sta Eh ma se vendo il mio piletto Ho paura che mi venda anche la tv Ne abbiamo trovato uno Guardate che bellino Questo è carino ed abbastanza grande Quindi la tv dovrebbe risultare centrata Esatto Ne sono quasi sicura Ne sono quasi sicura Allora quindi decorate Electronics Prendiamo la nostra bellissima tv E guarda adesso Ecco qua Guarda adesso che bella figura che fa Ora si ragiona Puoi vedere bene? Eh così Vedi adesso è perfetto Molto molto carino Sì 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 E poi guarda cosa ho visto C'è decoration dove puoi aggiungere piccoli oggettini Come e dove vuoi Tipo guarda Un quadro? Che cos'è? No è un poster Vedi? Ah bello Sì sì Medievale E a me piacciono le cose medievale Ok Ce l'ho fatta Eh sì bisogna un po' abituarsi Perché giustamente i tassi sono diversi Esatto Quindi bisogna farci leggermente abituire E guardate un pochettino TV nuova Con poster nuovo Che sono fantastici Bellissimo E poi nella cameretta abbiamo il pupazzino No ci posso giocare No ci posso giocare No è fantastico Io non ho parole ragazzi È il gioco più bello Che abbiamo mai giocato di Roblo In ogni caso ragazzi ci fermiamo così per questo video Se volete una serie metteteci tanti likes Scrivete nei commenti che avete la serie Eccetera eccetera come sempre Noi ovviamente piacerebbe farla perché è fantastica Non c'è altro Non c'è bisogno di spiegarla Penso che Ho visto Che basti questo video Prima eravamo in un altro server E ho visto le case ragazzi Si può fare davvero di tutto Case a due Tre piani Ville giganti Ville con piscina Si può fare davvero di tutto Quindi È fantastico Cioè avrà una modetta di costruzione bellissima Dei lavori tutti da provare E appunto fare le promozioni Quindi avrà a guadagnare di più E magari cambia pure il lavoro Esplorare tutti i vari negozi Insomma Secondo me è una serie Sarebbe carinissima Assolutamente sì Beh ragazzi il video si è così Se vi è piaciuto Ascettateci un like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao